Mamma mia, c'è davvero paura, terrore. A Cagliari cresce il malcontento per l'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che quest'anno ha registrato rincari fino al 15%, con aumenti ancora più consistenti per alcune utenze. Un giro per la città del sole rivela l'esasperazione dei cittadini, pagano di più, ma la situazione non accenna a migliorare. La città infatti continua a presentarsi sporca e il servizio di raccolta dei rifiuti viene giudicato da molti inefficace. Devi pagare, hai paura o non hai paura devi pagare, quindi hanno sempre ragione loro, dicono, avevano detto che non dovevano aumentare niente, invece tutti i giorni sta aumentando tutto. Nonostante la città sia sporca e noi siamo chiusi da due anni quasi. Non è diminuita sicuramente, nonostante le promesse. L'indifferenziato, ahimè, lo metto raramente, perché seleziono molto, quindi mi aspettavo una diminuzione della montare. Si è arrivata. È aumentata? Si, è troppo. Molti cittadini sono alle prese con l'incertezza, non hanno ancora ricevuto l'avviso di pagamento, ma temono già il colpo al portafoglio. Non mancano però coloro che accettano la situazione con rassegnazione. E cavoli se sono preoccupato, nel 15%, non so, nel Milano che Milano è forse minore. A esprimere il malcontento della popolazione il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Farris. Se prima eravamo il secondo comune d'Italia per costo della Tari, ora dopo questi ennesimi aumenti avremmo l'invidiabile primato nazionale. E mentre la città è sempre più sporca ci rendiamo conto che questa tariffa è sempre meno ancorata al servizio e più ad altri parametri. Solo tre mesi fa il sindaco Massimo Zed aveva promesso interventi per evitare il salasso cercando un dialogo con la Regione. Tuttavia questi tentativi non hanno portato risultati concreti. L'assessora all'ambiente Luisa Giuamarassi sta già lavorando per ottenere sconti per il 2025. Abbiamo già avviato un tavolo di collaborazione con la Regione perché il comune di Cagliari possa avere maggiori finanziamenti per far fronte soprattutto alle raccolte straordinarie di rifiuti. E abbiamo comunque in mente anche una razionalizzazione del servizio che consenta di finalizzare le risorse e i servizi più utili per la città con un progressivo contenimento della spesa. Grazie.